Furì, questa strada è pericolosa, facciamoci il sottopassaggio, proviamo ad andare in spiaggia guarda tranquillo, fuori ci proviamo, non spiaggia, andiamo a sta spiaggia troppo pericolosa la strada, è stretta, devo controllare se la spiaggia qua si può percorrere abbiamo fatto un pezzo di spiaggia, l'unica cosa è che qui si interrompe, dei signori ci hanno consigliato di entrare nella fiumara, noi prenderemo questa fiumara e purtroppo dobbiamo continuare sulla statale, è entrata l'acqua nell'oricchio sta a posto fringuelli, a posto eh, non sto soffrendo, sto godendo del caldo, si sta benissimo ripeto, sempre meglio questo caldo, sempre meglio questo habitat, sempre meglio le cicale che è il freddo, viva il caldo, caldo, furi caldo 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 fiumara ecco, risalita la fiumara il ponte treno e noi adesso prendiamo la salita che ci porta la statale, furi dai su dai che ce la faremo stai serena furi dobbiamo avere fede eccola furi, chi è? ciao fringuelli ciao 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 ciao